Oltre 30.000 passeggeri con 7.000 veicoli a loro seguito sono i dati trasmessi dall'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli riguardanti il transito di turisti per le isole del Golfo durante il lungo ponte del 2 giugno. Numeri da capogiro per la cittadina flegrea che in soli cinque giorni ha registrato un'affluenza record. L'ondata di turisti nel ponte per la festa della Repubblica attesta l'importanza logistica del porto di Pozzuoli che da diversi mesi a questa parte viene preferito come valida alternativa allo scalo di Napoli per raggiungere le isole del Golfo in particolar modo Procida e Ischia, dati incoraggianti per l'amministrazione comunale che ha sempre visto nel porto un punto di forza per trasformare Pozzuoli da città industriale a città turistica. In questi giorni sono state incessanti le attività della Guardia Costiera che coadiovata dalle forze di polizia locali ha permesso lo sbarco e l'imbarco di turisti in tutta sicurezza. Il weekend di festa è stato anche caratterizzato dall'arrivo della nave a vela della marina militare francese la goletta Belle Pulle proveniente da Livorno e diretta in Spagna. Durante la sosta c'è stato uno scambio di visite istituzionali fra l'equipaggio della goletta e di militari dell'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli incontro culminato con il tradizionale scambio dei cresta a suggello della vicinanza fra le due marine dopo la fregata della marina militare tedesca prodata l'anno scorso nello scaloflegreo. Adesso anche la marina militare francese ha scelto Pozzuoli quale meta delle proprie unità navali un segno tangibile di come il porto sia in grado di offrire le infrastrutture di servizi necessari all'approvvigionamento e alla sicurezza anche delle unità militari.